Spero che continuiamo da lì, non c'ho voglia di dover rifare tutto Ci dovremmo essere in teoria Sono stati istantaneo quindi... ok si siamo da qui Speriamo che se mi ammazzano non... Ma io devo andare qua Sì sì devo andare qua Ce l'ho al culo, ce l'ho al culo, ce l'ho al culo, ce l'ho al culo Ok a posto Che bel uomo, tutto muscoloso Andiamo Ah ok, so che potesse passare mi sembrava Siamo tornati, siamo tornati Dai ho preso tutti i documenti secondo me, dai ne ho preso un bordello Ne avrò mancato uno sicuro C'è qualche documento qui? Non credo Allora Grazie Levi, le follow Vedi con quanti account hai followato Non va bene lo sai Sì sì Andiamo qua Eh avevo intuito L'artorio se ne sarà andato ma è fatto bene perché è noioso se crash Faccio un documento Come è infatti Cazzo me li ricordo dove si trova, non abbiamo dei problemi qui Non c'ho già fatto bene a fare quel caldo, perché non è? Sì Così Non dubbio Non lo so mai Tanto io non ci devo più tornare, tanto vado a sudare delle porte Ammazza lui Ammazza lui invece di ammazzar me Ammazza lui invece di ammazzar me Non so cosa me lo fa pensare Non so cosa me lo fa pensare Ci siamo abbiamo finito il gioco tipo Corri Ah è carino Non è una merda come Fortnite È un battle royale Decisamente meglio Non ci giocherei per il resto della mia vita Però è carino Per cui riesco play on own anche se non ci sono mai riuscito a giocare Oh Eccolo con altro No non ce l'ho installato Se lo reinstallerò Però guarda che so scazzo Seriamente mi manca tipo un documento Che tristezza Che padre peccato Che padre peccato Che padre peccato Però oggi è riuscito a cominciare a fare la run dove prendevo tutti i documenti Purtroppo no Purtroppo no Che non è inutile che ci provi Orrani ce l'ho fatta lì Avrò perso un documento in qualche stanza dove c'è Guardate che figata Lampeggia di rosso dove c'è Chris Walker Non c'è qualche tipo di seguimento Adesso c'è un po' bianco Ma già dopo il bianco diventa verde la luce del controllo Fighissi 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 No 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 Voglio prendere il documento E' l'ultimo documento Volevo prendere il documento Ma non che Per te io a volte su Forza non ho vinto senza fare più Quella è tanta duffa C'è l'ombra solo della videocamera, scusami io questo lo devo prendere, dammi il trofeo dei documenti, dammi il trofeo dei documenti, uffa, ne ho missato qualcuno, è una roba da fare con la guida accanto, se no non vabbè, è normale, non è un tubo. Io mi rimetto la videocamera anche se fra due secondi toccati di nuovo. Ma come si muove tutto strano, la videocamera rimane rigida. Sì, ma sai cos'è, a me non piace fare live su videogiochi perché so che quel videogioco porta persone, mi dà un po' fastidio, se no giocherei a Fortnite, mi fa cagare. Se i giochi a Fortnite sono più becchi per forza 10-20 bambini in live. Mi appena c'è un dubbio, mi pare che tu li dico da. Sì, potevo farlo, vai! Trofeo spero, ho fatto discotta Incubo. Sì, potevo farlo, vai! Trofeo spero, ho fatto discotta Incubo. Scusa? Perché non mi ha dato il trofeo? Ah, porca troia, non c'è il trofeo di finirlo ad Incubo. Baffanculo, gioco di merda. Cazzo, ci sono nel 2. Porca troia, pensavo di fare almeno uno o due trofei. E invece qui su Outlast 1 sono tutti e due i giochi, l'unico trofeo che c'è della difficoltà è Fall. E vabbè. C'erano i capitoli? Questa cosa è strautile per i documenti. Beh, direi che ci giochiamo un bel Wisterblower, sempre in Incubo. Perchè no? Nuovi dati, va, non voglio che poi si bughe. Perdo i dati della partita normale. Ma... Let's go! Boys! Basta che andiamo dai taffone e fai un backup ogni tot e si mu... puoi finire il gioco secondo me. Se si può salvare, non so se si può salvare. Mai capito perchè mi deve deccare in tutto questo. C'è un bel Wisterblower. C'è un bel Wisterblower. Non ho capito perchè mi deve deccare. La data è quella, è la mia futura videocamera. Io speravo molto di non dirsi su Autodust 2, invece non l'hanno mai fatta. Willow Park, tocca a noi. Evidentemente, non è una cosa negativa, però così a casa totalmente. E se non la mando lì? Un'email, non un'email, un'email. E dove lo faccio? Ma chiudi la pagina, demente. Capra. 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 Che camicia che c'ho. Capra. 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 Sì, S.M.R.I. è il suo giusto Tu sei dubbi ora, fran, che è la parte di Wynland che considero più che il programma di Skillet è considerabile dedicazione per un'operazione F*** me, stanno portando giustamente perchè mi ficcano tutti i cavi nel corpo e quindi lo violentano e lo stupro la fortuna volta sento l'ho finito per cazzimia dopo se io non mandaroni tornati alla casa tutto era bello tranquillo no io finito I'm going to park. Late. Don't expect anything to us. I'm going to park. You need to exit the room, sir. You need to exit the room, sir. Cori... No, eh? Close. What's up? No, I haven't played it. I don't like playing it. Then someone is doing the spian. In fact, he said someone is telling stories outside of the class. What does it mean to do the spian? Literally, please. No, I don't. It's somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router and fireball patch would be enough to fool the world's leading supplier of fire fighters. Period. Why the hit of the title has been so bad? Grazie mille Grazie mille Let's go Sono un po' stanchetto ma vediamo di finirlo Non è neanche troppo lungo mi sembra No no oggi faccio solo questo Domani farò live Domani ci vediamo con L'aggiornamento di GTA Che in teoria con l'aggiornamento Di Dead by Daylight Saranno cose interessanti se la connessione va Se no giocherò per cazzo mia Perché è così che andrà probabilmente Col culo che ho Oh Gesù sto cazzo di cuscino di merda Oh mio dio Che cos'è quella a fare Oh no ho preso un uomo Aiuto Oh no ho preso le cose Se l'aggiornamento di Minecraft Perché se gioco a Minecraft E l'aggiornamento di Minecraft Non ho capito E l'aggiornamento di Minecraft No, tu sei un buon uomo, Waylon. Dai, aprimi. 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 Cazzo, abbiamo zero su due batterie, non va bene. Ma io vuoi menare davvero? Ah, erano solo parole. Perché non posso rubare le batterie da questa videocamera? Ah, non me lo ricordo bene, ovviamente, quindi potrei fare dei fail in questa difficoltà. Oh, perfetto. C'era lo spettro, in teoria. Oh no, non mi ricordo. Videocamera è bellissima. Fotocamera, tanto sa. No, non c'è lo spettro, ok. Mi ricordo che all'inizio c'era lo spettro, da qualche parte. Forse era un vecchio aggiornamento. Una vecchia versione. No, non credo che ci andrò, non ci vado mai. Ho dei denti. No, non credo che. ma io vorrei unirmi, vorrei stabbarlo anche io, però non mi fa fare vorrei stabbarli tutti col coltello, non si può adesso questo si alza, non vedo mai ah ok si chiude in automatico, bisogno di essere rimasti incastrati raggiccia c'è ragione, pure l'altro comunque quindi poi alla fine Miles è stato quasi inutile ha fatto tutto lui, cioè quello che doveva fare tutto fin dall'inizio adesso si alza questo, mi viene in contro così hai capito perché sceltiamo so, 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 so ah ok non mi vuole uccidere, cioè si è passato credo credo boh boh ah non ho potuto guardare la mia scena questo è magicamente aperto arrivo allo spettro mi sa lo togli su una tanto andrà così lo fai tu e lo fai io pezzi di merda non farebbe bello perchè sta cosa scroll comunque non school scuola scuola vuol dire teschi sono arrivati ad un incontro con quell'uomo bellissimo neanche una batteria qui ci speravo ma che bel uomo non non so che lo ami sei bellissimo poverino lui forse è messo peggio di Miles a livello mentale perchè sta già subito impazzendo per via del motore morfogenico che cazzo mi stavo quasi staventando vedo un cazzo chiave ok ok adesso incontriamo il cannibale credo che ci possa shottare come tutto quasi sarò sincero con voi non mi ricordo dove si trovano le chiavi adesso mi trovo è la francese vabbè no non mi shotta ho avuto uno culo sfacciato del fatto che era aperto ho avuto uno culo sfacciato del fatto che era aperto ha aperto quest'altra lo spro come fa a sapere che sono qua vabbè ok ho trovato dove devo andare almeno quello mi ha fatto a sapere che ero lì ero eravamo al buio non poteva vedermi non poteva vi Stavolta totalmente accasato, molto più avanti Ok, ma porco Via Un po' più veloce la prossima volta Ok, fatto Sono felice di ver... Scusa, non volevo spingerti Però posso Sono immortale Sto facendo... Ti faccio compenetrare Ah, ok, no Oh Regalo divino Non la posso raccogliere, però Adesso posso Ma posso farlo compenetrare? No Vieni qua, vieni qua Seguimi Voglio spingerti dentro la porta Anche io voglio aiutarti Voglio aiutarti a uscire di qui No, non posso No, non posso Peccato Allora Abbiamo... No, non abbiamo trovato la chiave Sì, invece Solo per dire abbiamo la chiave Ma in realtà non ce l'avremmo Adesso ce l'abbiamo Minima idea di chi sia quello Non lo so Ma hanno tolto quello che all'inizio del gioco Metteva la testa di un dottore nel cesso E hanno anche tolto Ma forse per via della difficoltà Cambiano le cose Boh, hanno tolto un paio di cose Che erano fighe da vedere Vabbè Tanto me ne posso fregare altamente Oh, però Easy 4U2NV Benvenuto So, welcome 4U2NV And now The notification For the notification I can't see Ok Voila Da qui o rincontriamoci Non mi ricordo quando è l'ultimo incontro con lui Ma non suono né break Eh, scusate Che cosa devo dire Sono un brecchio umorista ragazzi Non ci potete fare niente Non potete fermarmi Siamo ancora messi bene la batteria Siamo ancora messi bene la batteria Ah, di qua si torna qui Ah, di qua si torna qui Ok, questo è meglio di no allora Ok, che figo Diventa giallo Il Il Cosa del controller Solo per Per il vapore Che fa danno Ma scusa Dove cazzo devo andare Non vedo condotti di appunti Una sorta Eh, questa non la posso aprire Quindi Mi son perso Ma la cazzo devo andare Sì perché ero la batteria Oh, che ti devo dire Dove da un attimino Non so dove devo andare Ah, ecco Vaffanculo Pange jumping, eh Bello sport No, non volevo uscire Anche se è quello che avrebbe fatto Chiunque La reazione di chiunque Questa lì vedi uno cadere E scende No Fago qui No Qui Ok Voilà Equilibrio 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 Oh, bevi sono cantati Perché venerdì Cresci the game Eh, lo so Perché non ci gioco Proprio io Da un po' E che non ho voglia di giocare Survivor Su quel gioco Non ha senso Come di BT Non ha senso giocare Survivor E se devo giocare Killer A tal punto Mi metto quei bot Almeno Gioco sicuro Killer Cioè Dice una batteria Dice una batteria E capita pennello Voilà Ok C'è l'uomo Con la motoseghina Esce o devo andare io da lui Questa è la vera domagna Mi sa io Mi sa che devo andare io da lui Mi sono cacato Ma forse l'ho solo sentito Non è davvero qui Porco Non so dov'è È dietro di me Non so come Cosa è successo Non so come Non so perché Ci ho provato Non funziona Starca questo Ok Ok sono vivo Finché non scopre Che c'è una porta qui Ah ok No è il bagno O meno male Ah ecco Era qui il tipo Vai tranquillo Vuoi vedere Ok No è il bagno mi son cagato ok adesso rivolgiamo l'uomo sega mi ricordo queste cose e poi mi spavento comunque e vabbè ma sei stronzo e qua ci casco per forza ok mi sono cagato però non era lui mi sono cagato e basta ok c'ho una batteria da qualche parte no vabbè sono ancora a posto più o meno però ci siamo eh chissà ricordo la via ah no però poi io non so come tornare io non so dove cazzo mi sono infilato non so dove cazzo mi sono infilato non so dove cazzo mi sono infilato ringraziamo il buio ricordiamoci l'altra dopo in casa oddio mi ha quasi visto no non entrare qui dentro ti vieto di entrare qui dentro sei una merda eh vabbè non mi fa passare non potevo passare non faceva passare ok che è morta smelpenny smear vabbè vabbè io non so come faceva sapere che ero qui però non mi fa chiudere la po- vabbè non ho la minima idea di come faceva sapere che ero lì è andato a caso è andato totalmente a caso e mi ha beccato ah ecco lui esce da qui ok ok ora so da dove esce andò qui ok qua me lo ricordavo ok in teoria adesso ci siamo alla gas room poi dobbiamo tornare in via ah è la valvola non ho un bottone mi sento più sicuro a passare da qua sopra pain benvenuto welcome welcome pain e vabbè sarai un pezzo di merda però più lento ad aprire le porte mi raccomando ah easy t-bag 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 ma sei un uomo bellissimo c'ha le mutande attenzione che uomo stupendo ci sentiamo al decarico non so voi ma io la batteria la ricarico c'è una porta lì ma eravamo già stati qui si siamo tornati indietro perché dovevamo passare di qua si ok ok figo è scomparso pure il tipo carina sta cosa vai ci siamo comunque non è mai male sedersi un po' di forbacogliore ragazzi oh siamo fuori già parte del giardino si ah ok pensavo che era arrivato qui mi sembrava strano e mi sa che questo è l'ultimo incontro col tipo credo si vede niente e tranquilli che non si vede niente anche forse è meglio senza videocamera è peggio vedete questa me la ricordavo non mi ricordavo se era nel gioco normale o qui nel gioco normale non è successo mi sto incastrando tra gli alberi oh Gesù mi sto incastrando pensavo fossero cose fisiche queste cose non mi sto incastrando ah ha smesso di provare ok cioè prima che non so dove devo andare io adesso ma io dove entra qua so chi volesse menare invece se ne è andato succedere questa cosa in autos ogni tanto se come il patter cazzo non ci sopporta da nessuna parte il patter che poi il patter non era sentiero no non è sentiero boh dove cazzo non andiamo questa è chiusa eh no qui ok ok questa parte ti può fare senza senza infrarossi hitman cos'hai visto per suaventarti così tanto e mo ma vabbè mi but non c'era alternativa ok ok stiamo contento non ci fosse niente interessante per terra ma sembra giorno cazzo è sta luminosità ok ci siamo abbiamo un problema però ah ok di qua ah cazzo sono sempre stati qui questi che palle ma sono sempre stati questi stronzi non me li ricordo ah forse c'hanno sta cosa che non ti inseguono semplicemente se ti avvicini ti uccidono non ho mai capito questa cosa questa non me la ricordavo cazzo si si arriva mi vuole mena mi vuole mena aiuto aiuto non sai salire le scale le mente ok vabbè l'altra porta ogni volta sta porta mi fa fail ok sembriamo dei pazzi che vogliamo così a cazzo allora Sì 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 Hai ragione E' ecco il nostro lavoro vecchio amico Chris Walker ci sciotterà vabbè dove va a scoprire non mi sa se non fosse obbligatorio proprio non mi sa passare dalla porta c'è un po' che cazzo è ok che figata sta cosa che vedi le cose da un altro punto di vista si ma dove devo ok ma ah ok adesso è aperto poverino e continua a ripeterlo lasciamolo in pace speriamo che sopravviva poi alla fine le guardie facevano solo il loro lavoro che c'entrano molto c'entrano molto di più i dottori ecco il padre marty non sei freddo di fare questo lavoro se lo sapete o non credo che dopo saierà non sei freddo di fare questo lavoro non sei freddo di fare questo lavoro Devo rivedere tipo l'ombra della mia testa per capire quanto sembro come l'oro. Ma batteria. Siamo così disperate? No, però lo farò comunque perché mi dà fastidio tenerla qui. Oh, è arrivato il grassone. Gris, mi lasci stai, non so neanche da dove è arrivato. Perché lui non so scaricare le finestre sul punto debole. Eccoci qui. Eccoci qui. Era una donna comunque, saprò una frega. E sopra non c'è nessuno. Strano. Ok, siamo arrivati al canciolo elettrico. Non mi ricordo dove è che si esattiva però. Ok, di qua. E abbiamo un fegaiolo. Mi dice qualcosa? Spero fa brava paparino, ma c'è una donna lì in mezzo. A me non sembra. 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 pensare che sei umosessuale. Però non dire fai felice paparino. Brava. E invece di dire bravo. Io ho sbattuto proprio in faccia. Mi so. Tu non è che sa aprirle. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. No, no. Ah, sì. C'è il buco. Soprattutto no, c'è il lucchetto e poi... Ah, c'è il buco. Vabbè, questo non lo ricordavo. Si chiama suicidio. Si tratta di suicidio. Coppiamo l'esempio del nostro amico e uccidiamoci, no? Non è sì. E anche la storia di Padox sta verticale come te. Fa stare verticale come te, non mi ricordo esattamente la battaglia. Oh, siamo già arrivati. Sì. 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 Ok, quindi questa era solo per la batteria. Faccia di un tipo. Ah no. Non mi fa un cacato un attimino. Sì. 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 Ma il tipo, ma assomiglia al tipo di prima che ha parlato della radio tropparente. se fosse un caco usato, era solo per chi ha parlato della radio, la gente è sulla da qui. Dio, 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 Dio. Grazie a te appartimento. È bello sapere che ci sono un paio di persone qui. Non male. Già, voglio muodire. Forchèm. Ah ok, sono un demente Ma si tedoni? E' buggato, mi sa il colore, fin troppo chiaro. Credo. Sì, credo si ha buggato la grafica, proprio chiaro. Oh oh, a great shot. Sì, credo. Siamo tutti e ci evitiamo. Sì, credo. Sì, credo. Sì, credo. Sì, credo. Ma mandami nella direzione giusta così riesco a scappare, vabbè. Via. No, dai! Non puoi prendere, ma non puoi prendere! Ma tu la presa, grazie. C'è l'uomo in attenzione. Il raggio della morte. Tanto però non ha senso. Cioè, provi ad aprire una porta, poi devi tornare indietro. che prima era chiusa. Perché in automatico, se provi ad aprire quella porta, se ne aprirà una indietro che prima era chiusa. Così. Sì. Luca della bomba. oppure tu riempis lo stesso vuoto e mi lasci andare via con la coda tra le gambe 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 E anche io vorrei un figlio, ma non conto Anche se è un bel uomo, tu sono andato So you will die Un caso sotto picante mi sa, evviva So you will die Arma io sbagliato No, arma io giusto Lo doi solo aspettare che si trigghera va de vento Che be' gli occhi che c'ha Ciao Siamo quasi, abbiamo quasi finito il Dianfee Tipo Adesso non voglio essere troppo veloce, però sto da manca Dobbiamo liberarci di lui e poi siamo alla fine mi sembra Probabilmente elimino una parte sicuramente che non mi ricordo, faccio sempre così E poi non mi sembrava E poi mi sembrava E poi mi sembrava E poi mi sembrava E poi mi sembrava Io vorrei parlare di come fossi un psicologo E vorrei sapere di più della sua cosa Grazie. 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 Tocca a noi tra poco, signore. Non essere felici, ci siamo i prossimi in fila. Che bel uomo che è. Oh, Dio. Mi scherzi. Non mi scherzi. Non mi scherzi. Non mi scherzi. Oh, Dio. Ah! Io gli vorrei dire, guarda, non sono una donna, però se vuoi diventiamo un uomo. Ti aiuto a trovare, così gli vorrei dire. Però vabbè, usciamo insieme. Dal manicomio, dico. E poi fuori dal manicomio toglieremo. Devo fare la visuale, perché se no Twitch rompe. ... 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 ma proprio provi a perdere, per la mia vita, per la vita dei nostri bambini. I need protection. The first thing is missing you and the first thing you see. I'm not sure how to do it. Ah niente, qua lo inquadrano per forza, mi dico. Vai. Si ricomincia. Controllare la mano. E andiamo. Si. 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 tu fai questo messo, se mi ami mi devi lasciar andare oh Gesù adesso mi uccide, eh vabbè sì ma che palle quella stanza è fatta male ci sono tipo tre punti in cui potrei passare come strettoia e il gioco se ne frega ci sono batterie qui cazzo non si vede fastidio sa cosa che muove, ok che siamo alla fine del dia del si ma togliermi le batterie e niente ma tu un calcetto sono morto ogni, va a random lui lui va totalmente a random ogni tanto va dritto ogni tanto va a destra ogni tanto va a sinistra e li va a random non smetti di shottarmi sono malvagissimo gli occhi, gli occhi, gli occhi che palle sto qua veramente si la videocamera tiene conto di quanto registri davvero però fra le morti, dopo la morte torna indietro ad ultimo no, niente si deve aver fatto scoprire che triste è sta cosa, speravo che c'è il bambino non ho capito dove devo passare non ho capito io non riesco a vedere dove devo passare è la stanza giusta cioè io mi ricordo che di qui si passava come una strettoia che palla questa parte mi da fastidio fare e rifare ancora sto pezzo qui prima mi butterei la sua finestra ah c'è la porta qui c'era la porta lì ma non si vedeva mai nella vita non si vedeva mai nella vita non si vedeva la porta sì ma il problema è che non riesco ad aprire e chiuderla perché lui mi arriva prima non si vedeva mai non si vedeva mai Grazie a tutti. Cioè, vedi, per forza. Però l'ho distanziato, in teoria. Eh, tuo cazzo. No, vabbè. Oh, ce la siamo fatta. Non ce l'abbiamo, ce la siamo. Va bene così. Ok. Sì, siamo arrivati dalla palestra. Perfetto. Ah, non ho batterie. È vero. È un leggerissimo problema. È vero leggero. Come faccio di solito? Cioè, te le toglie sempre, in teoria, tutte le batterie. Oh, qua si muore. Non ci sono batterie extra, mi sa. Vabbè, andiamo senza batterie. Ah, perfetto. Ne vorrei due. No, non ci sono batterie. No, non ci sono batterie. No, no. credi troppo in tua moglie che palle non so dove cazzo da andar mi dice che questa la dovrei poter aprire devo fare il giro per spostare qualcosa ma siamo già arrivati per spostare perché lui sa aprire le porte non è giusto gli altri li sbatto mi sfondano più che altro che lo sia uscito che abbia scavalcato mi sfondano più mi sfondano più che altro mi sfondano più che altro oh porco e vabbè non ci ho pensato era ovvio che ci fossero due porte in realtà però vabbè ma se io non faccio niente no puoi seriamente trollarlo cosè non lo so se si trolla e vabbè era ancora lì eh non mi ha visto però non mi ha visto non mi ha visto sa che sono tu ma non mi ha visto non mi ha visto proprio non mi ha ucciso non mi ha ucciso non mi ha ucciso no perchè perchè se l'è chiusa così vabbè allora sei scemo però scopri il tuo modo per trollarlo malissimo tipo che rimani lì senza spostare il coso e ti nascondi nell'uomo non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto Vabbè ma visto a caso Però l'ho appena fregata la grande Ho vinto GG E G S S S Ce l'avevo incollato le chiappe No non è vero non ce l'avevo incollato le chiappe Però la musica lo faceva in tende Non ce l'avevo incollato l'avevo incollato le chiappe Non ce l'avevo incollato l'avevo incollato le chiappe Non ce l'avevo incollato l'avevo incollato l'avevo incollato le chiappe Non ce l'avevo incollato le chiappe Non ce l'avevo incollato le chiappe Ok quanto manca? Ci siamo, ci siamo praticamente, mi sembra, ho dieci minuti forse, sono stati abbastanza veloci, sono stati bravi. Grazie a tutti, grazie a tutti. Giustamente. Sì ma anche tu sei infetto, non crede. In teoria c'è un ultimo eseguimento con Chris, mi sembra, quindi veniamo shortati se ci becca. Oh avrò lasciato un casino però raga io non ho trovato tutti questi documenti in giro. Mi sono trovati pochi, siamo alla fine, secondo me sono tipo pochissimi. Ho messo con più entrato ma vabbè così. No. 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 C'è la Fuson, c'est ça? c'ho provato a evitare non si può e in teoria quello del warrider jack in teoria credo controllato da um knife che siano ma se uno volesse tipo andare oddio si può hanno tolto la scala e non puoi saltare se non potevi arrampicarti peccato sei un alternativo segreto rientri così perché sei malato di mente vabbè andiamo va veniamo a studiarsi adesso della telecamera in meno di un'ora tipo sai che da fuori non sembra così male io non ho mai capito perché mai si ha lasciato via chiave credo per il fatto che servisse un DLC che wadewan non saprà mai che colora mai che l'ha fatto passare l'inferno anche a mile adesso è finito siamo stati molto veloci ragazzi è molto corto il DLC quando sai cosa devi fare in incubo eh quindi la difficoltà era alta c'è abbastanza difficile in questo video file che rende un mondo di shit per i nostri amici in Murgoff ci siamo stati di Malmasa e abbiamo fatto tutto in nostra potenza per copiare ma siamo stati in queste attività sono stati in ma in 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 ma non è un'altra cosa il mio amico e non lo so ma non lo so 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 ma non lo so non lo so però la chi è vero c'era alla maschile è vero finito mi ha fatto un po' sgranchire non posso dire le gambe però ho corso quindi teoricamente beh spero che gli siano piaciute queste tre live che potevano essere due però fa niente probabilmente ci rivediamo domani con GTA 5 e si stavo dicendo di nuovo Outlast e Dead by Daylight con i nuovi due aggiornamenti GTA sicuro Dead by Daylight si vocifera si dice che dovrebbe uscire domani poi lo scopriremo insieme noi ci vediamo alla prossima sempre qui su GameDegasi vi ricordo di iscrivervi al canale di Youtube GameDegasi di followare il canale di Twitch GameDegasi GameDegasi ciao ragazzi GameDegasi GameDegasi GameDegasi